ci sono tre tipi di amore quello di testa quello di cuore quello di stomaco l'amore di testa ti fa dire l'amo perché è bella l'amo perché è brava l'amo perché ci faccio bene l'amore l'amo perché sa cucinare l'amo perché è intelligente l'amo perché così e cosa e allora capisci che non ami la persona ma le sue qualità ed è qualcosa a cui ti aggrappi l'amore di cuore ti fa dire l'amo perché mi ama l'amo perché mi riempie le attenzioni l'amo perché non mi fa mancare nulla l'amo perché sono l'unica persona per lei l'amo perché mi cerca sempre l'amo perché fa qualsiasi cosa per me l'amo perché mi dà questo mi fa quest'altro e allora capisci che non ami la persona ma di ciò che ti dà sei innamorata del suo amore l'amore di stomaco ti fa dire non so perché l'amo so solo che se solo la tocco so solo che se solo la guardo so solo che se solo l'ascolto mi si blocca il respiro mi si blocca la parola e non mi importa chi sia non mi importa cosa faccia non mi importa da dove venga e allora capisci che non puoi fare a meno di quella persona ed è quello il vero amore se ti chiedi perché l'ami e ti dai risposte diffida non l'ami se le chiedi perché mami e ti dà risposte diffida non t'ama l'amore non fa domande l'amore non dà risposte l'amore ama e basta